Ragazzuoli benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Io ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite è possibile farlo e basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sull'ettangorina in base a testa supporto un creatore ed inserire il mio creator code ovvero Croatomist. Accettare e il gioco ragazzi sarà fatto. Inoltre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se ovviamente il video vi è piaciuto e per supportarmi. Detto questo ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi con questo fantastico video. Non mi piace. 10 secondi. 8. 7. Si trice bagato. 5. 4. 12. Fantastico. 2. 2. Ora. 1. Attenzione. Partendo. Ti prego. Dai un pochino parti. Arzini. Dai vogliamo la parola. Dai spacca tutto spacca tutto. Maggi non è qua. Sarebbe il meme più assurdo. Quindi. No. Ehi. Sarà anche il caso del party perché tiro un buglio nello schermo. No. Parte parte. Ti prego. Allora. Io direi un bel padre nostro. Ragazzi. Cosa sta succedendo ragazzi? Corato prende chat ragazzi che funzioni. Vi prego. Chat fatelo ragazzi. Vi prego ragazzi. Vi prego. Ah è partito. Partito salamino. Ehi. Questo praticamente è. Non vi dico chi è la mattina. Guarda come va. A domani. Guarda che effetto. È bellissimo. Guarda attorno. Io vedo. Io vedo. Boh. Mi pare un mascemello gigante. È gigantesco ragazzi. È fuori di testa. È bellissimo eh. Veramente bello. E quindi. Ragazzi. Fino d'elemento possiamo staccare. Addo. Addo ma. Che è sceso? Sta scendendo. È una capsula. Che cavolo è sto roba? È una bomba atomica. No. Che cavolo è? Guarda. Guarda. Guarda i rift. Guarda i rift in aria. Guarda il cielo. Guarda i rift. Ah ma ho paura. Ti prego. Perché devi bildare così? Madonna. Una bella signora. Quindi. Cosa succede? Ma c'è una fava gigante da cielo. Che cosa vuol dire? Che cos'è? Il razzo? Ah guarda la sinistra. Ah sì. Si si leva davanti. Si sta l'ordo. Ok. Sta spaccando tutto. Vedi che vengono i rift. Sta spaccando tutto. Eh sì. Rift. mille razzi. Oh. Guarda qui. Guarda qui. È fuori di testa? È bello come cosa. Qui c'è i brividi abadipidi. Guarda i rift. Guarda i rift. Guarda i rift. Ah no. I rift. Sono i rift che volano. Sembrano suppostine che volano. Sembra quelle che facciano End. End ti piace la suppostina? Dai un pochino. Un pochino. Eh sì. Ho capito queste cose che fluttuano. Mi pare una. Dove va? Ok. Tutti là dentro. Eh sembra. Non vi dico chi. Eh. Non vi dico chi. Però. Insomma. Tutti in un buco. Oh. Il cosa? Il satellite tipo. Il meteorite. Cosa succede? Eh. Eh boh. Mi pare. Ah perché giustamente il tempo è fermo quindi non entro qui dentro. Capito? E sarà anche il caso che si spacca c'è. Oh cavolo. Il fapore è un pochino. Oh cazzo. Continuo. Rompi il buchino. È mogadine di te stesso e spacca tutto. Come vi avevo detto ragazzi. Ve l'avevo detto. Te l'avevo detto io. Anche tu l'avevi detto così? No sto scherzando. Ti trollo. Che sto rumore? Io l'avevo detto. Ah me l'avevi detto tu. E quindi. No no. Cade da cielo. In aria. Non mi cade addosso. Che sprocco eh. Giancrifo ragazzi. Un piccolo suppostino. Oh oh oh. Oddio. Che cos'è? Lutlake. Cos'è? Ragazzi io c'è i brividi. Ah Lutlake. Ragazzi. Ehi. Volo. Pure io non posso controllare il personaggio. È una mega scorreggia. No ci sta portando via. Ci porta via? No ti prego. La nostra casetta. no ragazzi salutiamo la mappa. Anch'io. 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 Vai la musica più che altro. Tu la senti la musica? Anche io. Io per la musica. Eh sì. È fuori di testa. Madonna quel salamone. Mamma mia. No. Guarda. Guarda Lutlake. Ora entra lì dentro. Dove non siamo riusciti ad entrare. Ecco. Oh. Oh. Porca miseriaccia. Dovado. Ma dove vado? Quindi. No. Ti prego. Dove sto? Ma ci risucchia dentro. Ci risucchia dentro. Sì. Sicuro. Sicuro. Ecco vedi. Stiamo già andando verso. Verso dentro. No. Non posso più muovere. Neanche io. Oddio. O lo vuoi o non lo vuoi. No. È fuori. Ragazzi io c'ho che privi. È bellissimo. E adesso? A domani. No. Sto piangenzo cavolo. No. 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 Sta musichetta no però. Ti prego. Sì. È bellissimo. È fuori di testa eh? Che ragazzi tutti su Apex dai. Ok. È finito l'evento. È stato bello. Arrivederci. E ma siamo subito nella mappa per forza. Per forza. Sicuro. A me guardi il landing a sinistra. Sta caricando. Sta caricando la mappa sicuro. Ma se spende il pc? No. Io non vedo niente. Che nessuno? Io vedo un... A me sta continuando. Vedo la cinematic. Io vedo... Non vedo niente. Adesso sì. Vedo un buchino? Sì c'è un buco nero. Un buchino. Un buchetto. Ma che dice exit? Q cazzo che eschi devo vedere. Io non do con niente. Esci. La fava eh. Cioè. Dai quindi addio. Addio la mappa che abbiamo... Dove abbiamo giocato per due anni. È fuori di testa come cosa? Non sa che dobbiamo fare exit per forza. Dici? Ehm. Clicchiamo exit. Io ne lascio un altro po'. Un altro pochino. Esco? Usciamo. Usciamo. Usciamo? Esci installa la patch. No. Come installa la patch? Esco ragazzi. Qua dicono di aspettare. Aspetta. Aspettiamo. No secondo me sei uscito scritto esci. 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 Vedi il buco. Vai. Esci fuori. Io lo vedo. Sono dove perché sono dove perché serve sono giù. Usci da fortnite. E' tocca mezza la patch. Si è rimosso il buco. Pure da me. Pure da me. Cioè nel senso sto vedendo il video. E' uscito un 146 dal... E' quello che quando ti fai il pombo. Il pombo full hs 146. Quelli forse sono i dati tipo della mappa che stanno aggiungendo secondo me. Non so perché. I vari file che avevano lickato tempo fa. Disco. Non lo so. Io spero che... Non lo so. Io spero che veramente facciano qualcosa. Dai però che fa. Oppure il numero di telefono del... Dall'admini eb games. Non lo chiamiamo lo prendiamo a quell'ordo di merda. Eh rottola fa. Cioè. Ok eccomi qua. Il 15 è uscito anche a me adesso. Ero mutata vero? Sì. 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 Meno male. Eh io purtroppo si sta baggando tutto. Non so se il mio PC oppure Evo. Non lo so. Ah. Dai perché gli devi insultare la mammina? Vedi ce le hai in alto? Io non li vedo ragazzi. In alto non li vedo. Dove li vedete? Te ne accorgi quando fa tipo quel rumore il buco e sopra vedi tipo i numeri sfocati. Però si leggono in realtà. Ah ok. Ah sì. In alto quando si apre. Fa un gas assurdo eh. Sì stanno stanno sfondando. Comunque non possono lasciare ok creare hype ma non possono lasciare tutto sto tempo a guardare un buco ragazzi. Ma perché? Ma perché? Ma perché stanno mettendo tutti i patch. Tutte le patch di gioco. Aveva delle anomalie ai server poi eh. Questo sarà. Questo è l'evento più grosso eh. Oh 87. Beh. È uscito un numero. 87. Sarà anche il caso che. Ah. 14. Oh. 14. 14. 14. I giorni che mancano. No. Quasi. 14. Dai. Sì 14. Quasi. 106. Ecco un altro numero. 106. 106. Eh mo si muove più velocemente ragazzi. è uscito il 2. Aveva ragione Asso. Asso è uscito il 2. Quindi mo qual è la teoria? Che ha detto? Ha detto se esce il 2 ho capito la teoria. Mo mi vede che cazzo io direi ha capito perché lui è un geno per queste cose. Chi è Asso? Asso player da me è un sub. Ah ok. Cioè? Mi racconta. Un altro numero. 150. 150. 150. Ho messo di sottofondo. Eh. Eh. Sussurri di bambini tipo assatanati per un minuto e dieci insieme alla soundtrack questa qua del buco. Si sono cagati tutti in mano. E io stavo facendo finta che fosse vero. Si sono cagati tutti in mano e si sono cagati tutti. Stupiti bot. Stupiti. Si capiva? Sì mi ha dato mille persone ci sono cascate. Ridicoli. Io però adesso sono curiosissimo di vedere cioè che cosa metteranno che cosa ci sarà Io a forza sento rumori diversi. Cioè non so perché Adesso è poco ma sicuro che se dopo tutto sto tempo flopano Oh 69. 69 Uscito? Sì. 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 Oh 146. Uscito? Sì. Ah sì. 146 ragazzi. Cosa mi... Mi filta? anche io volevo acquistarlo che dicevamo no ma il rose proprio diciamo ma si ce li rosa diceva ma si ce li butto diceva vado e gli dicevano ma che ce li butti sì no vabbè era per dire che ci butti tanto sto sto game sto gioco non si sa come andrà e invece e poi ci ha fatto crescere a tutti vero 36 uscire numero yes numero due che era quello che devo uscire due sì il due eccolo 176 gli sta la bella zone wars 8 sì vabbè 160 vediamo ecco l'ultimo 65 no 65 ora è già uscito eh boppetta se a me mi chiedono invece come è passata la giornata gli dico ho passato la mia giornata a guardare sette ore e mezzo un buco di merda sì avrebbero potuto mettere un timer ragazzi però giustamente col timer a loro non gli conviene perché se poi lo mettono faccio un esempio se loro mettono un timer di resistiamo un altro po' di 6 ore di 6 ore e poi tra 6 ore e poi tra 6 ore non riescono a mettere la patch per un problema per quella per i games è una figura di merda quindi se loro non mettono un timer hanno più tempo possibile per fare quel cazzo che vogliono quindi senza che noi possiamo dire avete failato avete detto un timer un tempo invece non era quello capito è come un pararsi il culo e quindi niente rega domani appena ci sono delle novità vi aggiorno su instagram su telegram e poi non appena si sta per avviare la 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 l'espansione quindi è bella espansione la stagione avviro la live